carissimi amiche e amici di ospendomontese benvenuti e soprattutto a tutti quanti voi per questo primo anno di ospendomontese come sapete che ospendomontese ha compiuto un anno e ci troviamo qui durante queste feste di natale per perpetuare una tradizione che oramai sta diventando tale. Sorteggeremo quindi un buono da 25 euro che sarà spendibile presso tutti i commercianti della rete di ospendomontese, li riconoscete ovviamente dalla busta blu con il logo ISM esposto in vetrina e per fare questa prima presentazione per ricevere l'Una ci troviamo presso l'autoscuola Biglietti. Buongiorno, salutiamo i vostri amici titolari e adesso chiamiamo le nostre aliene. Ah, le vostre aliene che parlano da Vallette. Ah, perfetto, ragazzi, venite, venite. Ecco qua, buongiorno a voi, due splendide Vallette e Antonio Caro mi puoi consegnare l'Una. Ecco qua, grazie mille e se volete fare un saluto e un augurio per questa Epifania e a voi la parola. Auguri a tutti i consorzionati di Montegno Pontese e tutti i partecipanti a questa iniziativa. Buon anno e felice anno. Auguri a tutti i commercianti di Montegno di Velocita e in particolare all'autoscuola Biglietti. Ringraziamo quindi le nostre cari ragazze, le nostre cari Andrale Gennaro e ci vediamo tra poco da Mickey Mouse. Amici e amici, eccoci, ci troviamo presso Mickey Mouse. Ricordiamo che Mickey Mouse è nido scuola dell'infanzia primaria e paritaria e ci troviamo con la signora Emilia che ci aiuterà a procedere al sorteggio nel frattempo in cui prepara queste calze. Queste calze sono per i bambini. Per i bambini. Ah, perfetto, guardate che belle calze per i bambini della Mickey Mouse. E abbiamo delle splendide vallette che ci aiuteranno. Prego signora Emilia, se vuole procedere a portare l'urna alle bambine per il sorteggio. Faccio io, faccio io. Allora bimbe, sentitemi bene, dobbiamo sorteggiare un solo bigliettino. Chi lo prende? Lo prendi tu? Prendi un bigliettino solo. Uno solo. Ok, dammelo pure. Grazie mille. E vince il primo buono da 25 euro il signor Carmine Spirito. Signor Carmine Spirito, eccolo qua, ce la legge un attimo la signora Emilia. Signor Carmine Spirito ha vinto un buono da 25 euro cliccando mi piace sulla nostra pagina web. Signore Emilia, le vuole fare un saluto? Un augurio? Un buon anno a tutti. Ok, grazie mille e tra poco ci troveremo da un altro dei nostri sociali per un ulteriore sorteggio di un altro buono da 25 euro. A presto. Ed eccoci qui da Enca Parrucchieri a Torre Capita. Ricordiamo che Enca non è solo parrucchiere ed è estetica per donna e solarium. Siamo qui con il nostro carabinico titolare della Enca Parrucchieri, Enzo, che ci sorteggerà un nome per il secondo buono vincente 25 euro presso tutti i nostri associati. Vuoi prendere un bigliettino per favore? Ok, uno solo. Ok, vuoi leggere protesamente il nome? Allora, chi ha vinto? Maria Scotto da Pollonia. E Maria Scotto da Pollonia vince il secondo buono giornaliero di 25 euro di spesa presso tutti i nostri associati di Rete Fregrea. Io spendo moltissimo. Ti lascio la parola per un saluto. Un grande augurio di buon 2013 a tutti, a tutti, in generale. Ok, grazie mille. Grazie mille a Torre Capita. Eccoci qui, siamo qui da Iliano Gomme, gomme service, tutti i servizi per i vostri traumatici, per la consegna del buono, di uno dei due buoni vincenti, da 25 euro, che i nostri due vincitori potranno spendere presso tutta la rete di Rete Fregrea. Io spendo moltissimo. Chiamiamo quindi Vinicio. Vinicio, puoi venire per favore? Eccolo, sta arrivando Vinicio che ci consegnerà il buono che poi noi, naturalmente, il facsimile che noi consegneremo invece in originale ai nostri associati. Eccolo qui. Vinicio, puoi fare un saluto, un augurio. Auguri a tutti i clienti. Io spendo moltissimo. Perfetto? Ok, grazie mille Vinicio. È evidentemente emozionata Nautica Eliano. Per Nautica Eliano vi ricordiamo uno dei nostri associati. È tutto per la vostra manutenzione e la cura della vostra barca, nonché potete trovare motori nautici e tutto quello che vi necessita. Siamo qui per ricordare qui sono i due vincitori, ecco qua un bidettino mi è caduto, i due vincitori dei due buoni da 25 euro estratti in questa giornata. Lo ricordiamo, sono il signor Carmine Spirito e la signora o signorina Maria Scotto da Polonia, che hanno vinto 25 euro di buoni spendibili in tutta la rete Fregrea ISM presso tutti i nostri associati, cliccando semplicemente mi piace sulla nostra pagina Facebook o su io spendo montese.com. Vi ricordiamo che quest'anno per il primo anno io spendo di vita, diciamo così, io spendo montese, abbiamo deciso di, oltre alla crociera e al oramai famoso speso, noi abbiamo deciso di mettere in palio ben 4.000 euro di premi donati dai nostri associati. Quindi quest'anno per fare la spesa presso gli associati ISM è ancora più conveniente perché ci sono ancora più premi da vincere, quindi vi invitiamo a seguirci su internet, su Facebook, a seguire le nostre estrazioni e a cercare le nostre colonnine dove potete imbucare gli scontri, troverete comunque maggiori informazioni presso tutti i nostri associati. Adesso ci troveranno qui con il signore Antonio, titolare appunto della Nautica Irliano, che vorrebbe fare, diciamo così perciò fare i saluti finali. Antonio? Ok, tante salute e auguri per un buon 2013 a tutti. Ok.